Io credo che la Juventus è un centrocampista di grande talento e da un grandissimo futuro. Betancourt ha soli vent'anni e credo che abbia ancora grandissime immagini di miglioramento. Credo anche che la Juve ha grande stima del ragazzo come credo Allegri. È chiaro che per ora è alle spalle di giocatori importanti come Pjanic, Chedira, Marchisio, Matuidi. Però credo che abbia tutti i mezzi e le capacità col tempo di venire fuori. È chiaro che ha cambiato paese, ha cambiato metodologia di lavoro. E quindi è un po' più difficile. Però credo anche che a soli vent'anni ha già vinto due campionati con il Boca. E ha giocato anche in Coppa Libertadores. Questo fa sì che Betancourt sia un giovane di grandissime prospettive. È chiaro che se deve essere sacrificato per prendere un giocatore come Milinkovic e Savic, non lo so. Credo che entrambi Milinkovic e Savic è una certezza ormai. è un giocatore stratosferico che ha dimostrato di essere pronto e di essere un giocatore che nel nostro campionato determina le partite. Betancourt è un giovane invece che può diventarlo. Può diventarlo perché ha caratteristiche importanti e merita comunque di essere alla Juventus. Perché credo che la Juventus se l'ha preso non è stato un caso. Difficilmente alla Juve si sbagliano gli acquisti. Grazie.